...l'intervento di Malagò, poi Burghisso, poi Pizzarro, quindi De Rossi, superata a ricertare nel campo, ancora De Rossi, lancia in avanti per Battista, ancora Battista, fermato da Codre, arriva a seconda battuta, poi Motta, largo sulla destra, cross di Motta, in area di rigore, colpo di destra di Imperrotta, la palla per risa e la sinistra... E' il gioco del roscio, e' il gioco del roscio, Gerardo Riese, dopo quello segnato a Torino, dopo quello segnato a Torino, contro la Juventus, sinistra al volo, sinistra al volo in diagonale, nuova da fare per Purchi ed è il gollo del vantaggio, gollo del vantaggio della Roma per Gerardo Riese, il terzo gollo, terzo gollo in maglia c'è la rossa, evidentemente a lui piace il Siena, aveva segnato nella gara d'andata, segna nella gara di ritorno al 29esimo minuto, il gol di Gerardo Riese, la Roma che passa in vantaggio, in maniera assolutamente meritata.